E ci siamo allenati tutta la settimana, tutta la settimana lo sbrinzo. Ho dovuto fare un corso di barma per venire qua, quindi mi è già costato un milino, devo mettere sul conto speso il milino del corso barma, il milino che ho speso a bere, quindi sono già 2.000. E anche le cure, perché dopo questa... Poi c'è trova benessere. Aspetta, da quando parti? Grazie a tutti. Ringraziamo tutti per averci invitato, specialmente Scila, che è fantastica. E auguriamo a tutti di venire a visitare questa azienda, perché ne vale veramente la pena. Grandi! Sicuramente le emozioni che ci ha trasmesso Giorgio con i suoi prodotti sono evidenti da tutta la gente che è venuta qui per congratularsi con lui. I prodotti sono veramente ottimi, eccezionali e non finiremo mai di usarli. Io personalmente conosco Giorgio da 25 anni. Prodotti favolosi, unici e questa è la dimostrazione di essere qui presente. Organizzata nei minimi particolari, stupenda. Grazie. 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 Grazie.